Quinta eliminatoria per l'accesso alla finale del Superfrustino, Tommaso Grassi Hour 2022. Cavalli di tre anni, Dalida Ban, Diablo GV, Dubai Pax, Drinksea, Diana Bai Bai, Divina Breed in prima fila, detto fatto Laumar, Dinamo Daghi, Dutch Wise S, Dandab Di Celle in seconda. I favori in chiusura sono per Drinksea numero 4, Andrea Farolfi in sediolo. In partenza è proprio Drinksea che coglie ottimo avvio dietro l'autostart e conquista la testa mentre cerca di sistemarsi subito in seconda posizione Diana Bai Bai. Numero 1, Dalida Ban, squalificato. Partita piuttosto svelta, ha sbagliato invece Dalida Ban, quindi Drinksea in vantaggio su Diana Bai Bai dopo i primi 200 metri di gara. Sulla retta delle scuderie continua a buon ritmo l'allievo di Andrea Farolfi, 14,5 i primi 200 metri e quarto iniziale che se ne va in 30 netto. C'è la risalita esterna a questo punto di Dandab Di Celle che cerca di avvicinarsi in progressione ma il leader comunque continua a camminare e completa i primi 600 metri in 45,8. Davanti alle tribune in vantaggio Drinksea, seconda posizione per Diana Bai Bai, tanto c'è stata la rottura. Numero 6, Divina Breed, squalificato. Divina Breed, c'è il tentativo in terza ruota a questo punto di Dutch Wise AS che prova a portarsi sulla pariglia di testa ma Drinksea per il momento continua a guidare abbastanza tranquillamente, completa un chilometro in 1,16,5. Sempre all'esterno Dandab Di Celle si ripropone, anzi Cala, Dutch Wise. A questo punto ce lo scatto in terza ruota da parte di Dubai Pax a 400 dalla conclusione. Dubai Pax in grado di passare su Dandab Di Celle che a sua volta sta liquidando Drinksea. Dubai Pax in grado di passare su Dandab Di Celle quando siamo al completamento della piegata, prende netto margine di vantaggio Dubai Pax e in arrivo viene a concludere. Isolato in avanti per la vittoria di Carmine Piscuoglio che prende i primi dieci punti della serata, al secondo posto finisce il numero 5 Diana Bai Bai al terzo è Dandab Di Celle dopo intero percorso scoperto. 1,15,4, il raguaglio conclusivo, i primi dieci punti che vanno a Carmine Piscuoglio che di spunto viene a vincere questa prima prova delle cinque riservate al superfrustino Tomas Grassi Howard. Andiamo a rivedere le battute conclusive, il bel primo piano per Dubai Pax, Carmine Piscuoglio, Andrea Vitaliano al training per la scuderia El Ra. Grazie a tutti.